Siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 50, ma Gesù gli disse, amico, per quale scopo sei presente? Questa traduzione la possiamo confrontare con l'interlineare dei testimoni di Geova, sempre che avete pubblicato nella Torre di Guardia. Per curiosità andiamo a vedere cos'ha, perché è scritto così, pur non essendo dal punto di vista grammaticale scorretto, vedete questo verbo ha a che fare appunto con parusia. Parusia, si può tradurre così invece che tradurre con amico perché sei venuto, amico perché sei presente, così traducevano fino alla Bibbia del 2017, quella grigia che andiamo a vedere. Dove si sono adeguati alla stragrande maggioranza tutte le altre Bibbie e anzi dovrei controllare questo versetto come viene tradotto nelle Bibbie da loro indicate in un altro versetto. che andremo a vedere fra poco, vedete nell'ultima Bibbia viene detto, amico, cosa sei venuto a fare, venuto a fare. Essere, esserci, essere presente, venire, questo è il verbo di cui stiamo parlando, che corrisponde al greco. Ecco, in questa che vedete essere la cosiddetta concordanza di Strong, quando volete andare a vedere un verbo greco, ecco, lo andate a cercare nella corrispondenza e numero presente in questa concordanza. e sul sito, ho sempre fatto molto bene, biblehub.com, dopo metto comunque tutti i riferimenti nella descrizione, ecco, qui abbiamo la parola originale, appunto, che viene tradotta con, si può tradurre tranquillamente con sono presente, sono vicino, d'accordo, sono arrivato, perché sei venuto, perché sei arrivato. Bene, può essere un esercizio, diciamo, di stile, quello che sto facendo, una invenzione mia, e una mia eccessiva, essere, diciamo, eccessivo, essere prevenuto, nel pensare che hanno allontanato questo tipo di traduzione, amico, perché sei venuto, perché, perché dovevano sostenere, anche attraverso questo versetto, allontanare. L'idea che parusia possa significare venuta, perché Gesù è venuto già, invisibilmente, sostengono, nel 14, e questa è, appunto, la parusia, perché parusia non vuol dire, dicono, venire, ma essere presente. Per di più, inventano la presenza invisibile, che è assolutamente, dal punto di vista biblico, come tante altre cose che sostengono, è assolutamente insostenibile. Non ha nessun appiglio il tipo di presenza, di parusia, che loro vogliono far passare, cioè come presenza invisibile di Gesù. Questo non ha nessun appiglio nella scrittura, ma siccome devono continuare a sostenerlo, arrivano a modificare, a restringere la lungola, diciamo, l'ambito di significati semantici di questo verbo, dicendo che parusia, che andiamo a recuperare sempre dello strong, proprio quello che è uno strumento di studio assolutamente autorevole, proprio lui ci specifica il ventaglio di significati, ecco, presenza, d'accordo? Quindi non è scorretto dire, in quel caso, Matteo 26,50, amico perché sei presente, ok? Ma perché l'amico sia presente, deve spostarsi da un luogo ad un altro, cioè arrivare. E quindi, in questo caso, è Giuda, si sta parlando di Giuda, Giuda non era stato sempre presente quella notte, eh? della quale si sta parlando, quindi è del tutto logicamente più corretto dire, Giuda, perché sei venuto, non perché sei presente. Eppure, la traduzione era sempre stata questa, amico perché sei presente. Eh, se è presente uno in casa, dice, perché sei presente? E che stiamo a scuola, facciamo l'appello, no, perché sei venuto, ecco. Quindi, non solo dal punto di vista grammaticale dobbiamo vedere se una cosa è corretta o meno, ma bisogna anche tradurre a seconda del contesto. Quindi poi un arrivo, ecco, un avvento, specialmente della seconda venuta di Cristo. Vedete? Parusia, strong. Quindi è assolutamente normale tradurre. Quindi è chiaro che fa il loro gioco, qui in 24, 3, tradurre qual è, sarà il segno della tua presenza, non venuta, della tua presenza. Cioè nel 1914 lui sarà presente, secondo quello che dicono loro, sarà stato presente invisibilmente. E non la venuta, né la gloria. Eh, di cosa stanno chiedendo i discepoli? Stanno chiedendo quando verrai invisibilmente presente nel 1914? No, quando sarà la tua seconda venuta? La seconda e ultima definitiva venuta? Non c'è altro. Tutto il resto è noia, tutto il resto è invenzione JV. Non esiste una presenza invisibile di Gesù dal 1914? E ti dico un'altra cosa, dicono gli americani, I'll tell you one. Ti dico che Gesù è veramente invisibilmente presente nella sua morte, nella sua chiesa. L'unica che esiste. E allora andiamo a vedere sempre nel nostro strumento, che sarebbe bello che imparaste a usare, a prendervi confidenza. Aspetta, 24, 3, vedete? Andiamo l'interlineare online. Cazzo e meno da tua e per i tu. Comunque arriviamo all'appunto. E quale sarà il segno, Semeion, della tua venuta? Ecco, Parusias. E andiamo a vedere appunto quello che vi ho detto prima, lo strong, cioè il greco 3952. Parusia. E andiamo a leggere. E poi ci colleghiamo con una scheda che è presente, un'espressione che è presente nella scheda in fondo alla Bibbia dei Testimoni di Giove. Presenza, d'accordo, ma poi anche venuta, arrivo, un avvento specialmente della seconda venuta di Cristo. Questo, ripeto, l'autorevolissimo strong. Arrivo, avvento. Quindi, assolutamente, 24, 3 di prima, che viene tradotto con presenza, assolutamente, qui avremmo potuto tradurre, come traduce la stragrande maggioranza di Bibbia, stragrande. Certamente due e tre traducono diversamente come presenza come lei, ma, ripeto, assolutamente non possiamo, come dire, escludere la versione appunto che traduce Parusia con avvento, con venuta. Quali saranno i segni della tua venuta? Ad esempio, il nuovo testamento interlineare, in uso per lo più presso le facoltà teologiche, testo greco di Nesrae Haaland, vedete, ecco, come traduce 24, 3. Quale sarà il segno della tua venuta? Ma continuiamo a leggere dalla Strong. Vedete, Parusia, essere presente, arrivare, per entrare in una situazione. Propriamente venire, soprattutto, l'arrivo del proprietario, che solo può affrontare una situazione. E' un termine tecnico con riferimento alla visita di un re o di qualche altro funzionario. Una visita reale. E il re come viene? Sotto traccia? In incognito? Senza farsi notare? Come viene il re? E poi proprio, espressamente, vedete, in Oriente, come espressione tecnica per la visita reale di un re o imperatore. La parola significa letteralmente l'essere accanto, quindi la presenza personale, non invisibile. Invisibile qui, in questa parola. Non c'è niente. Non c'è niente. Tant'è vero, guardate, che poi loro stessi, un po' forse per confondere un po' le acque, cosa vanno a scrivere? A riportare proprio quello che dice Bauer. Qui siamo nella nota, la 5b, vedete, questa è la rb8. E vanno proprio a scrivere questo. Parusia, divenne il termine ufficiale per la visita di una persona di alto rango, specialmente direi imperatori, che visitavano una provincia. Appunto, è proprio l'arrivo del nostro re, del Signore Gesù Cristo, con grande potenza e gloria, la seconda venuta, la parusia che attendiamo. Non certo una venuta alla chietichella e giocando a nascondino. Quindi, capite, proprio perché si è resa conto di questo, probabilmente nell'ultima, appunto, questa versione del, io dico la grigia, in Matteo 26,50, dove anche qui c'è parusia, hanno tradotto con venire. Amico, che cosa sei venuto a fare? Ma anche qui c'è parusia. Ma, hanno lasciato, invece, il significato di presenza in 24,3, Matteo 24,3, e passi paralleli, perché comunque, sempre, bisogna suggerire all'ignaro lettore testimonio di Geova, che non sa che la presenza è invisibile. Innanzitutto, in primis, è stata prevista nel 1874, da Russell, e nel 1914 avrebbe dovuto essere la fine proprio di tutto, cioè l'Armageddon. E quindi, se di presenza è invisibile parliamo, allora bisognerebbe ricordare che la presenza è invisibile è stata prevista nel 1874, in principio. E che comunque continua il tentativo pertinace di sostenere questa data come l'anno del regno, 1914, anno della inventata presenza invisibile, senza basi bibliche.